no 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 questo è culo però è vabbè guarda quell'altro mamma mia contro questo dovrei averla già vinta la partita ed è così 2-0 vittoria i got nightmares in my head i fear let the thoughts build up until i can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper anxiety filling up every space no privacy and silently it could build and build until you finally see whoa it's taking over damn no closure moving closer no exposure i just wanna be a loner some can't stay sober looking over other shoulders like moving boulders just to get out of the home is sucks i've had enough i don't wanna feel the stuck under the rug all my problems that are di nuovo capo io mi scelgo questi qua allora cominciamo nel peggiore dei modi però la partita si può vincere tranquillamente in questo modo però no abbiamo perso di nuovo capo io mi riprendo i fratelli lord per qua come si chiamano loro c'è di cazzo ci voleva tanto ok un è andato due sono andati ora tocca al terzo è chiuso dai abbiamo vinto è che vinciamo anche questo è che cazzo porca puttana vabbè ci rifacciamo adesso dobbiamo uccidere il primo perché se ci viene vicino è super pericoloso dai rimasto solo questo l'ho quasi ucciso dai ok ok rapina attenzione il rapina non so chi mi possa prendere già è l'into non so se sia una scelta giusta o sbagliata però mi vado di fare così abbiamo fatto già un botto di danno e praticamente abbiamo già vinto la partita abbiamo vinto bronzo 2 va bene così e andiamoci a prendere andiamoci a prendere i gemelli ok 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 andiamo a prendere questa palla dai bene così 1 a 0 abbiamo vinto ricercati chi mi devo prendere non lo so iris non lo uso da tanto ah mi avevano consigliato shelly vabbè eh vaffanculo eh vaffanculo ed è che l'ho uccido l'ho uccido l'ho uccido anche a questo l'ho uccido abbiamo vinto subito ma come 10 star ma non erano 20 una volta ah non lo so io vabbè il nuovo rapino eh mi posso prendere buzz no che mi ero preso prima mi ricordo oddio che mi ero preso prima gelindo gelindo cazzo cazzo ci stanno andando a distruggere la cassa porca troia non state solo qui a proteggere però perché non serve a niente cazzo eh abbiamo perso eh di questo passo qua dominio indominio mi devo proteggere anche da vicino shelly l'ho bombardino del cazzo è un po' rotto i coglioni cazzo fanculo porca troia uccidetelo si vabbè va porca puttana non è possibile però mi sa che ho sbagliato personaggio ma anche se in teoria dovremmo farcela porca troia dai allora allora ci sto recuperando dai no non ci credo allora raga dai però così dai non è possibile così non ci voglio credere ricominciamo dai ricercati allora 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 dai siamo 7 ah ora sono 20 le star ma come cazzo sono questi eventi qua cazzo oh raga disconnesso per inattività ma in che cazzo di senso è oh raga ci giochiamo jessi in ko vabbè e lo sapevo io porca di quella troia primo round super perso ah è uno solo a volte sono tre a volte sono uno non si capisce più di cazzo qua ma sono cose da parte non si capisce una beata minchia e mi prendo bo porca puttana allora stavamo giocando tanto bene prima ora facciamo queste cose qua fanculo no si è fatto uscire coglione e adesso però è finita così dai 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 ricercati ricercati mi prendo shelly è una beata minchia Grazie per la visione